niente raga io sono ripartito e questo è quello che ho attorno e niente raga a voi commenti iscriviti al canale Scusa, troppo clamorosa, troppo troppo clamorosa. Di cui io non conoscevo l'esistenza, perché sono un ignorante del cazzo. Aspetta, aspetta, continuo ad aspettare, altri 22 secondi, no, 10 secondi, no, qualcosa in meno, 5 secondi, 4, 3, 2, 1, 0. Lassù, su quella collina, lo vedete il puntino? Quello è il Cristo Redentore di Maratea. Mamma mia, peccato, peccato non poterci arrivare, peccato l'ascensore. Cazzo d'ascensore, tutto per me, spero. Non mi ricordo dove sto. Praia? Praticamente, quell'isola, non ho ancora capito di chi è, però è visitabile, però non ho capito se è di un imprenditore, oppure non è di nessuno. Comunque si chiama l'isola di Dino. Dino come nome, no di Dino, come di Dino. E niente, è bello qua. Ci sta, ci sta. Ma che posto è questo? Esattamente, che posto sarebbe questo? Sto cadendo Sto cadendo